salve amiche ed amici di youtube sto dopo tanti anni in un nuovo live sono riuscito attraverso delle spiegazioni che ho visto in un video di youtube a capire come fare un live streaming il problema è che non so come vendrà il video perché mi vedo sdraiato la mia immagine non è verticale e orizzontale ma siccome mi sono stancato chiudo un po di finestre l'altra parte si chiama windows mi sono stancato di filmarmi con la mia filmatrice è vero è vero e mi sono stancato di filmarmi col mio cellulare nokia asha 302 e mi sono stancato di filmarmi con questo cellulare e non è vero che si è rotto che un galaxy young 53 60 che ha iniziato a andare in l'op e non è vero e siccome ho fatto un live o due con il mio motorola moto izz seconda generazione e c'è un sacco di luci lampeggianti no come si potrà guardare qua il laser è anche un'altra che si accende da quest'altra parte vediamo un po è lì e non so che cos'è qua vabbè mi sono stancato dicevo di dover fare dei video a forza perché la camera sta al contrario non so perché adesso la camera ti prende al contrario vabbè sono le bizze che fa la tecnologia moderna adesso scoperto che la devo mettere al contrario scusate un po sono gli inconvenienti della diretta come si diceva una volta allora ho visto che finalmente ecco adesso l'ho messa bene perché stava sul suo piedino e una camera logitech vi faccio vedere che del 99 faccio vedere come la camera la videocamera allora ti faccio la foto e poi ve la faccio vedere vi sto filmando con questo artefatto che sembra di un vecchio episodio di star wars che del 99 e quindi per quello le risoluzione pessima del video ma non mi va dicevo devo avvicinarmi un po il microfono non mi va di fare un live tenendo in mano il cellulare perché viene veramente troppo pesante la cosa la storia vediamo se posso alzare con una scatoletta per avere un po di inquadratura qualche millimetro dovrò parlare con il microfono analogico in mano allora mi piace che anche se la qualità dell'immagine è da fare schifo che posso fare dei video live per tutte e tutti voi sono contento che siate in due amici a guardarmi non so come attivare il chat non so nulla di come si fanno queste cose la prima volta dopo tanti anni che fancio un video in diretta in broadcast quindi scusate la mia imperizia ma bando alle ciance sarà una diretta molto divertente almeno spero che sia divertente per tutte e tutti voi si vede un po storta l'immagine perché ecco dovrebbe essere così registra un po a cavolo di cane perché non so perché ma chi lo sa perché e sono le figuracce della diretta se il meglio di così non la posso mettere un po storto lo sfondo un po storto io ma veramente non riesco a capire come nella sua posizione dritta firmi di costato vediamo un po la prossima volta cercherò di organizzarmi meglio allora dicevo ha vinto in francia il candidato di sinistra ha vinto l'equivalente di un pidino italiano solo che con più contatti con la finanza internazionale e tutti a dire l'orrore che ha perso le pen io se devo essere sincero tanto poi mi stanno seguendo dal vivo appena due persone e chissà quanti guarderanno il video questo video che non so se ripeterò un live con gli strumenti che ciò tecnologici dell'età della pietra e questo microfono del 2013 e la telecamera video la web camera del 99 con che spugna debbo parlare davanti alla faccia sembra spugna però vabbè dicevo a me francamente i due candidati che si sono presentati alle elezioni per l'eliseo non mi sono piaciuti non mi è piaciuto né il candidato di destra marie le pen né il candidato di sinistra che neanche so come si chiama una cosa che non mi è piaciuta di le pen è stata che ha ripetuto alla lettera il discorso di anni fa di non so se di sarkozy o di miterrand ma non soltanto ha ripetuto il testo del discorso ma anche anche ripetuto ha imitato la gestualità e seguito il ritmo del discorso che ha imitato quindi questo perché una volta registrato con il microfono spento perché è analogico non è digitale questo ma ha portato a credere che un candidato che imita il discorso già preferito da un altro non è un candidato un buon candidato ideale e quindi come può governare andare al governo 1 e come se io andassi un'università e come tessi di laurea dico ciò che ha finito di dire lo ripeto ma anche con le pause gli accenti la stessa retorica la stessa impostazione del discorso che ha finito lo stesso la stessa tessi di laurea che ha finito di proporre un altro candidato alla laurea universitaria probabilmente visto che gli esami anche orali per lauree universitarie le tessi di lauree sono dei documenti pubblici la guardia di finanze mi potrebbe arrestare per contraffazione ideologica adesso non so come funzioni in francia ma è brutto che un candidato all'eliseo si elida in questa forma io credo che ha inciso molto l'imitazione del discorso del politico che sta che di anni prima che ha ripetuto proprio hanno sovrapposto i suoi di il suo monologo col monologo dell'altro politico addirittura le stesse pause coincideva in tutto il discorso io non so che altre cose proponeva la le pen però se n'è uscita con con un discorso pre elettorale che faceva molto di più che imitare la retorica e la dialetica della sinistra proprio ne riprendeva il discorso di un candidato di sinistra e io credo che se uno è coerente mi scordo sempre di guardare la camera se uno è coerente con le proprie idee deve avere dei discorsi suoi poi vabbè un'altra cosa invece in italia e il grillo sparlante il nostro caro amico beppe grillo molti di voi care amiche ed amici che mi seguite in youtube e che mi seguite in google plus e che mi seguite anche in facebook mi avete criticato di essere un grillino anni prima però mi avete criticato di essere un piedino o di essere un pd e lino in realtà io non è che abbia preferenze politiche c'è una camera che mi filma storto sono disoccupato e vorrei fare qualcosa per il mio paese poi degli amici hanno aperto una pagina in facebook saint jean candidato come primo ministro allora io ho cominciato a fare dei video come il capitale saint jean quando marco travaglio ha dichiarato che il pd era una nave alla deriva senza capitano senza comandante e io ho iniziato a fare dei video come capitale saint jean perché mi postulavo come capitano del pd ma non ottene risposta né dalle direzioni del pd né dal manifesto né da marco travaglio che ancora faceva degli editoriali critici sì ma si occupava del pd non ottene risposte da bersani da prodi da dalle ma da da nessuno poi la gente si lamentò che a diventare capitano del pd divento matteo renzi ma se non gli piaceva matteo renzi alla gente potevano sempre e leggere come capitano del pd che era una nave alla deriva secondo travaglio saint jean e invece nulla tanto è così che poi arrivò un momento credo 12 anni dopo nel quale iniziò il movimento 5 stelle avere un'esplosione un esploit di candidature dal web e tutti quelli che si volevano candidare che avevano l'illusione di potersi candidare perché all'inizio il movimento prometteva che sceglieva i suoi esponenti dalla base dalla gente allora hanno iniziato a caricare tutta una serie di video blog candidandosi e il vostro saint jean si propose come capitano questa volta come comandante del movimento 5 stelle direttamente appuntavo alle direzioni del movimento 5 stelle per avere un movimento 5 stelle realmente indipendente cosa successe di proposti a travaglio non mi rispose mi proposti a beppe grillo non mi rispose neanche in scherzo mi proposti a come capitano al compianto gian roberto casaleggio ignoro se ricevete le mie comunicazioni mi riproposti a molti esponenti pentastellati come di maio battisti non se ho ma noia non mi filarono va beh che posso prendere delle pause retoriche perché youtube mi ha detto che ciò per questo mi piacciono i live perché ciò sette ore per fare la super cazzo ora no e quindi ne approfitto perché oggi non mi va di editare editare il video per me è una rottura di maroni una perdita di tempo perché stai un'ora due ore tre ore chi più ne ha più ne metta a tenere il computer bloccato che poi adesso non mi funziona la n nella tastiera per quello che ho dovuto cambiare l'inizio sezione perché io pensavo che si fosse rotto il computer invece no la n non mi funziona ho dovuto cambiare la chiave d'accesso però ecco le le dirette poi una volta che devi staccare già il video è salvato vendrà di una qualità scadente ma io lo so che se la gente mi guarda come due persone in questo momento che tutto sommato sono una folla o no si è ridotto appena l'ho detto è rimasto solo uno guardandomi però voglio dire mi proposti al rimpianto gian roberto casaleggio ai per tutti gli esponenti pentastellati nessuno mi rispose quindi io non è che sono critico sostenitore di qualcuno io sono critico di tutti gli esponenti politici la prossima volta mi devo mettere un bicchiere d'acqua lì io sono critico nei confronti di qualsiasi esponenti politico di qualsiasi movimento o partito politico e voglio presentarmi per dare il mio apporto alla società naturalmente non posso vedere le cose in disordine qua c'era qualcosa che doveva essere giusta naturalmente qual era il filo a io mi posso presentare anche come indipendente però sono critico di qualsiasi partito politico quando se lo merita come del resto il proprio marco travaglio che non si risparmia qualche frecciatina nei confronti del movimento 5 stelle allora io però voglio ricordare a marco travaglio che lui giustamente quando siglio berlusconi nel 94 92 è sceso in politica 94 lui lo criticava perché diceva che in pratica era il proprietario continuava ad essere il proprietario di un'azienda il partito forza italia e che lui si comportava come un manager con spirito imprenditoriale e comandava come padre padrone che in pratica era l'azionista principale di un'azienda e non il leader di un partito che decideva tutto lui bla 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 vi ricordate forse qualcuno di voi no perché magari è nato negli anni 90 io me lo ricordo e se lo ricorderanno se avete l'età che va compresa da dai 17 ai 25 anni se lo ricorderanno i vostri genitori e poi cercate marco travaglio critica berlusconi che ancora oggi lo critica per essere il proprietario di un partito politico l'imprenditore che fa da manager in un partito politico perché ci ha messo i soldi perché ha investito e perché decide tutto lui da padre padrone adesso io non riesco a capire come non applichi con il criterio critico che ha sempre avuto lo stesso ragionamento nei confronti del movimento 5 stelle che l'ha fondato un impresario casaleggio e i suoi associati che adesso è rimasto di proprietà degli eredi e che hanno preso un brillante comunicatore sociale come beppe grillo per fare da mediatore per perché presti il viso il volto al movimento 5 stelle difatti beppe grillo non può fare politica e non si può candidare lui soltanto fa da chairman da incantatore da pifferaio magico ma lui non è la veramente politica del movimento e quindi sono andati il casaleggio è andato uno show di pepe grillo dove pepe grillo diceva uno che computer non servono a niente ne rompeva uno nel palco due che internet era una farsa e serviva per controllare la gente tre che la storia del riciclaggio era una frode perché per riciclare per esempio il plastico serviva più energia di quella che serve per usare il plastico nuovo quindi che non conveniva alle imprese riciclare e che in effetti come succede almeno in italia dove non abbiamo un'industria molto virtuosa costa di più produrre energia per riciclare che non per produrre di nuovo quindi il plastico poi va a finire non nella raccolta differenziata ma delle nelle discariche con l'umido allora gian carlo no gian roberto gian roberto casaleggio gli ha detto no un momento comincia a dire tutto il contrario perché noi vogliamo fondare un movimento e dire alla gente che riciclare si può che i computer sono buoni il progresso tecnologico e buono e che internet può servire come nuova piattaforma attraverso il web digitale per fare politica da quel momento ha smesso di parlare della infrastruttura di internet come di un qualche cosa che serviva a controllare la gente in mano ai servizi di intelligenza e militari del web come uno strumento di controllo della volontà delle masse che ti spiano anche in casa e hanno iniziato lui e gian roberto casaleggio a proporre il discorso che attraverso il web si poteva fare una democrazia diretta e molti ci sono creduti e io mi ricordo che la prima epoca del movimento quando ancora non facevano vera politica ma chiacchieravano andavano a prendere per fare dei ritiri non so se spirituali o politici andavano a prendere quelli che si candidavano al movimento 5 stelle con dei pulmini che ancora magari non si chiamava movimento 5 stelle perché li chiamavano grillini e li portavano in ville e mansioni in hotel 5 stelle dove rimanevano chiusi per del tempo in modo che facevano più che altro dei seminari in pratica gli facevano imparare il marketing la psicologia del consumatore per indottrinarli a reclutare nuovi pentastellati e quindi in questo modo hanno avuto i primi attraverso le elezioni comunali amministrative regionali provinciali hanno avuto i primi parlamentari e primi senatori e raccolti così dalla strada dalla gente da internet e quindi hanno anche avuto i primi dissidenti e primi dissapori perché perché il movimento come dice la parola è un qualche cosa che si forma muovendosi in una direzione e quindi che non ha un'identità ideologica ben definita ma raccoglie tutte le persone intorno a un progetto e quindi nel movimento entrarono forzisti di forza italia gente di ordine nuovo del forza nuova entrarono pidini comunisti come bondi entrò prima nella lega e poi in forza italia che era comunista entrò gente magari qualunque ma di ogni estrazione socioculturale e politica di ogni orientamento quando a misura a misura che il movimento si andò definendo naturalmente ci furono dei dissapori e si vide che le bassi non potevano discutere con la direzione con gian roberto e con beppe grillo allora iniziarono a essere espulsi perché non stavano a quello che doveva essere quello che doveva essere diciamo la volontà è è è è è è è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si è interrotto. Adesso non so se sto facendo un altro video, ma continuo a parlare. Allora dicevo, perché anche mi distraggono, vabbè, uccelli che volano fuori dal balcone. Iniziarono a essere espulsi quelli che non erano d'accordo con le direttive dei proprietari, cioè di Casaleggio e Associati, Gianroberto e Beppe Grillo. E' di lì che iniziarono invece a reclutare professionisti. Da dove li reclutarono questi professionisti? Uno dice gente nuova, aria nuova, idee nuove. Poi abbiamo saputo che la Previti, voglio dire, la Raggi, che uno diceva è caduta dalle stelle, è venuta chissà da dove, dove l'hanno trovata, nel Bosco Incantato. Si è presentata dal web, io l'ho creduto, e la Raggi, poverina, giovane avvocata, avvocatessa, si è presentata dal web e quindi l'hanno scelta, era inevitabile. E invece no, la Raggi ha fatto il tirocinio, che non c'è nulla di male, io l'ho ripetuto in molti video, non è una mia critica, perché tutti quelli che si ricevono da avvocato devono fare il tirocinio, cioè non devono tirare il collo al cigno, devono fare pratica, devono fare la gavetta, come anche i ragionieri, come anche chi vuoi te i dentisti, eccetera, e la Raggi ha fatto tirocinio nello studio di Previti. Adesso voi mi chiedete chi è Previti. Bene, Silvio Berlusconi, quando era, come diceva Marco Travaglio, il palazzinaro, il cementaiolo, che ha costruito Milano 2, Milano 3, chiaramente aveva bisogno di un avvocato, perché in Italia non sono mai state chiare le norme della cosiddetta abitabilità. Allora, prima facevi una casa, anche un privato cittadino che comprava un terreno e faceva una casa, e poi non gli davano l'abitabilità, non come in Germania, che vai nel comune e ti danno un foglio che può riempire, compilare anche un bambino di 5 anni, e già sai che tipo di casa puoi fare e le caratteristiche. Poi in Germania non ti chiedono il piano di costruzione e che se lo devi cambiare di una parete, devi fare una trafila burocratica che durerà anni, perché in Italia la storia è, se fai una riforma edilizia, i vigili del fuoco lo devono sapere nel caso devono intervenire a spegnere un incendio. Tu credi che in caso di incendio i vigili del fuoco possano avere il tempo di andare, soprattutto quando non c'era internet, nel catastro o nel catastro immobiliare, e prendere la planimetria dell'immobile dove devono intervenire? E se l'incendio è a mezzanotte o è di domenica, che fanno? Vanno lunedì mattina a chiedere la planimetria di una villetta fuori Milano o fuori Napoli a piedi grotta, intanto l'incendio ha già consumato tutto il quartiere, quindi in Italia ci sono sempre stati problemi con l'abitabilità, gli hanno avuti i costruttori, gli hanno avuti gli individui che prendevano un architetto o un geometra per fare una casetta e quindi Berlusconi aveva degli avvocati già come imprenditore edile, poi ha avuto degli avvocati quando è entrato nel mondo della telecomunicazione, si dice ispirato da Bettino Crazzi perché non riusciva a avere un telegiornale suo nella Rai, e io ho scritto, ho chiamato nella fine degli anni Ottanta o all'inizio degli anni Ottanta, alla Fininvest perché volevo proporre dei programmi di religione e di antropologia e di etnologia, poi mi rispossero ma io sono pigro e non se ne fece nulla, lasciavo dei messaggi alla centralina telefonica della Fininvest, mi sembra a Milano che chiamavo da Roma, ebbene allora dicevo, ha sempre avuto degli avvocati Berlusconi e poi anche entrando in politica, quando è entrato in politica, Previti divenne deputato o senatore dell'onorevole Silvio Berlusconi, fu se non mi sbaglio in quel periodo che la nostra raggiante raggi fece tirocinio negli anni 90 nello studio di Previti e associati che attendeva anche perché perché pubblicamente si fronteggiano, ma privatamente ci sono delle relazioni ambigue, privatamente si frequentano, ci sono delle relazioni transversali, lo studio di Previti attendeva non soltanto Berlusconi, magari Brunetta, ma anche per esempio Marini, Alemanno, Rutelli, D'Alema, tutti i politici della Roma bene e i politici, quindi lei ha fatto tirocinio dall'avvocato di Silvio Berlusconi, dove il nuovo che avanza, non è che bisogna mettere bene l'elissione, invece di dire il nuovo che avanza, il nuovo che avanza, cioè il nuovo avanzato, il nuovo avanzato di ieri, cioè se già ieri tutte le cose nuove di ieri erano ritrite e adesso sono contritte, perché chi avanza che avanza, cioè quello che era nuovo nella seconda repubblica era il nuovo che avanza, cioè non che va in avanti, ma che era avanzato dalla prima repubblica, tutto il riciclato della prima repubblica sta nella seconda repubblica frutto di tangentopoli e mani pulite e adesso il movimento 5 stelle e il nuovo che avanza anche lui perché molti candidati sono pidini pidiellini in pratica vabbè bisogna dire quelli del movimento 5 stelle sono onesti con la H perché loro rinunciano alla diaria e danno i soldi alla gente ma poi si impantanano nel senato e nel parlamento e poi si scopre che prendono come consulenti delle persone che li pagano 180 mila euro la spazzatura è ritornata a roma però questa volta dietro i cassonetti certo in un primo tempo la raggi raggiante la spazzatura l'ha tolta ma adesso la spazzatura è ritornata ringrazio il mio unico spettatore che adesso se ne è andato però non riesco a sapere come fare un seguire il chat perché purtroppo quando faccio l'hang out non riesco a non so non so come come si faccia a sapere se ticciata no no vabbè poi sarà divertente vedere in youtube se veramente vediamo un po se veramente sto cercando la pagina si direbbe che no che in youtube non appare nulla vediamo di mettere seleziona contenuto seleziona commento no purtroppo non c'è una live now e commettiamo sì c'era una sezione di live now però non non si vede il live ecco adesso sì me l'ha dato per un momento però me l'ha dato per un momento ma ma c'è l'immagine della della mia del mio canale quindi come dire ho parlato delle lezioni in francia ho parlato del movimento 5 stelle e del panorama politico italiano adesso viviamo sommersi da da stranieri non che io abbia nulla in contrario ma agli stranieri dico ma il problema è che non si risolve il loro problema ospitandoli ma risolvendo il problema in origine cioè perché vengono in italia perché vengono in europa perché per colpa già di bush padre e anche di bill clinton si sono fatte le cosiddette guerre preventive perché occidente soprattutto degli stati uniti avevano bisogno di idrocarburi e volevano vincere la geopolitica contro il blocco dell'est contro lezioni sovietica per quello che si è fatta la guerra dei balcani nella etsy jugoslavia in realtà è stata una guerra combattuta tra russi e la nato si è voluto impedire ai russi di avere un accesso nel mediterraneo adesso quell'accesso è controllato da occidente però già quello ci è costato a noi la sconfitta dei serbi e dei russi che venissero in italia decine di migliaia di albanesi ve lo ricordate sono state le prime migrazioni di massa inizi anni 90 forse non ve lo ricordate perché l'età promedio del mio pubblico va dai 15 anni ai 25 e 30 anni quindi forse eravate molto giovani forse non eravate nati però è successo questo domandatelo ai vostri genitori e cercate migrazioni di albanesi in massa negli anni 90 primi anni 90 perché la guerra nei balcani è stata dal 90 al 94 già qualche scintilla c'era stata prima e quindi venivano a decine di migliaia dall'albania era una cosa che finché il governo italiano non si decise con allora mi sembra come primo ministro francesco consiglia a dare del denaro al governo albanese non frenava nessuno e da noi non per dire che tutti gli albanesi fossero stati così ma venivano anche persone che hanno svuotato il carcere gli ospedali psichiatrici gente scomoda disoccupati in quell'epoca in italia si diceva che si stava forse meglio in albania che non in italia perché da noi veniva chiunque in albania non fosse stato in grado di sopravvivere e quindi perché è successo questo perché si è andata a sbloccare tutta la popolazione dei balcani con la guerra dei balcani allora è logico che molti albanesi che risiedevano nella ets jugoslavia bosnia bosnia ersegovina croazia serbia e montenegro in un primo tempo si siano rifugiati in albania come logico ma visto che forse non erano accettati neanche lì perché in pratica erano considerati foranei stranieri vennero in italia e nel resto di europa adesso ci sono molti albanesi figli di albanesi e nipoti di albanesi di quelle immigrazioni in europa che non sono più potuti tornare indietro perché albania continua a essere un paese molto povero arretrato forse più della grecia o forse oggigiorno la grecia si è ridotta essere la nuova albania ogni tanto qualcuno mi segue e questo mi dà tanta soddisfazione soprattutto voglio dirvi che mi scuso con voi per la qualità della diretta però per me è un grande sollievo poter fare dei video in diretta prima di tutto perché non devo preparare un argomento come faccio di solito quando faccio dei video secondo perché in questo modo mi leva molto tempo cioè mi risparmio del tempo dal dovere editare il video e doverlo caricare perché già succede automaticamente quindi mi scuso con voi per la qualità pessima del video ma so che i video che guardate di me non lo fate per per guardare la mia faccia se no per gli argomenti che vi propongo d'altra parte in questo modo io posso anche fare un video di quattro ore e non avere l'inconveniente di caricarlo perché si va caricando solo e in questo modo io sono sicuro che non devo editarlo perché un video di molto molto lungo magari una o due ore dovrei editare in moltissimo tempo e magari arriverebbe a pensare un'enormità invece in questo modo con un video fatto così in broadcast che sono riuscito a capire come farlo senza software lo carico mentre lo film non lo devo editare e non perdo mezz'ora a caricarlo a editarlo cioè a mettergli poi i dettagli a compartirlo nelle reti sociali in questo modo io adesso quando spegnerò subito metterò il link del video nelle mie reti sociali chi lo vorrà guardare lo potrà guardare perché per il momento non sono in quanti di voi mi avrete seguito però io credo non più di 4 o 5 persone mi raccomando già è notte perché come potrete vedere in l'illuminazione del tetto e pessima non ho una web camera con le lucette io penso che anche l'immagine pessima e che sarebbe stato meglio se avessi fatto un live streaming con il cellulare che ciò delle applicazioni per fare queste cose o ce le avevo dovrò reinstallarle però tipo ai file però succede che lì le devo fare corte le dirette invece con questo sistema no però c'è un inconveniente della cattiva immagine risoluzione di immagine la camera che adesso mi filma stordo non riesco a capire per quale motivo cacchio l'ho messa in piedi all'inizio e mi filmava disteso va beh ma rovinato all'inizio del film e non non riesco a capire come mai faccia queste cose e la camera però va beh sono gli inconvenienti della diretta come vedrete io dietro alle mie spalle o la mia biblioteca ve l'ho detto sempre più di un'occasione se vi interessa che io vi parli di qualche libro ditemelo fatemelo sapere certo i libri che non ho dovrò cercare in internet però ne ho tanti non li ho mai contati quanti sono adesso sto leggendo di love e craft lo sto rileggendo per la terza volta in tutta la mia vita che l'ho comprato negli anni 90 e perché hanno tanti di libri non tutti i racconti di love aircraft 1927 1930 uno dei più bei volumi anche se tutti i suoi racconti sono belli quindi mi raccomando domandatemi di quello che volete politica economia gastronomia io vedrò di fare qualche video però intanto vi ho già detto tutto quello che pensavo del movimento 5 stelle delle elezioni in francia avrei fatto un video con la filmatrice parlando di queste cose ma ho voluto rischiare ho voluto sperimentare ho voluto vedere se ancora dopo tanti anni che non riuscivo a capire come fare un video broadcast ci riuscivo e mi sono voluto levare questo sfizio allora cari amiche ed amici che guarderete questo video facciamo così se voi reputate che filmare in questo modo è accettabile lasciate un like sotto il video che rimandrà in youtube e date like anche in google plus e io capirò dal numero di visioni dal numero di like e dei commentari che vale la pena continuare a filmare con questa vecchia web camera del 99 e con questo microfono analogico da pochi euro perché il vostro amico sentenciane disoccupato e ogni volta che si filma con questo in questo modo si deve trovare una mezza spugna davanti alla faccia se invece questo video non lo guarderà nessuno non gli darete like non lo commenterete non se lo filerà nessuno capirò che al contrario di altri miei video che hanno ricevuto hanno ricevuto almeno in un mese 80 100 visioni vorrà dire che questa forma di filmarmi non piace a nessuno mi raccomando fatemelo sapere niente vi lascio cordialmente adesso è ancora più tardi logicamente se prima avevo detto che già era tardi sono 12 minuti più tardi niente un saluto a tutti i miei amici e le mie amiche di youtube di google plus di facebook infatti lì posterò il mio video vabbè vi lascio finito l'esperimento non voglio farlo troppo largo poi già no non mi segue più nessuno da live un saluto a tutte e tutti e amiche ed amici qui dal vostro san ten cian ed arrivederci alla prossima